Buonasera, noi siamo Marcello e il mio amico Tommaso, stasera vi presento Lorenzo Autorino a Carinetto, Tommaso Venanzi al Toroncello, Margherita Picario a Percussioni e Cori, Gian Lorenzo Nardi a Oboe e Percussioni, io sono Marcello Neumann e questo è il Recording Grazie Stare nudo sotto il mio contorno, regalami il tuo odore e imparare il conforto, senza sono troppo, troppo complicato Entro nel barretto, come in un saloon, è quello che il barista dice Che cosa rispondo adesso? Me ne vado e poi ti chiamo al telefono Stare nudo sotto il mio contorno, regalami il tuo odore e imparare il conforto, senza sono troppo, troppo complicato Stare nudo sotto il mio contorno, regalami il tuo odore e imparare il tuo odore e imparare il tuo odore, Stare nudo sotto il mio contorno, regalami il tuo odore e imparare il tuo odore, Stare nudo sotto il mio contorno, regalami il tuo odore e imparare 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 italiano forbito ma parlo italiano forbito grazie